Ciao, sono Gloria Old di Santeramo, saluto tutte le ragazze presenti in studio, alle quali chiedo se parteciperanno alla selezione di Miss Gang Bang dello Squirting Club di Molfetta, a breve uscirà il bambino. Non so ragazzi, che dite? Ha detto vedremo, e poi devono valutarvi, dai un po', vai avanti.